Inter 3 Roma 1 una vittoria che pesa come un macigno per la nostra Inter Simo i gol di Dumfries Brozovic nel primo tempo Lautaro Martinez nel secondo e poi in chiusura l'unico neo la rete di Mkhitaryan che ha messo quel pizzico di peperoncino diciamo sulla coda di questa partita che stavamo portando in porto senza grossi problemi questa è la grande sorpresa perché io credo che tutti quanti temessimo soprattutto questa partita sapevamo che l'insidia anzi pensavamo che l'insidia più difficile da qui alla fine del campionato potesse essere questa gara contro la Roma una Roma che arrivava molto lanciata da tanti risultati ci aspettavamo Mourinho che potesse portare qualcosina in più a livello proprio di motivazione di voglia di vincere dopo aver perso già i precedenti due scontri con l'Inter in campionato il primo all'andata il secondo nella gara di Coppa Italia invece oggi l'Inter ha dato una dimostrazione di forza fortissima perché mentre gli altri piangono mentre gli altri parlano di arbitri oggi Simo l'Inter ha fatto un altro passo in avanti molto molto importante perché quest'Inter è stata quadrata è stata cinica l'unico neo che trovo a questa partita se vogliamo mettercelo poi dopo approfondiamo è che una volta andati in vantaggio una volta arrivati al 3 a 0 ci è venuto un po' il braccino e anche in qualcuno che è entrato in campo un po' così ci saremmo aspettati un pochettino di più quel gol nel finale lascia un po' l'amaro in bocca ma è una grandissima prova c'erano tante insidi in questa partita siamo tornati a giocare bene e ad essere cinici e queste erano le due cose più importanti perché questo modo di fare questo essere cinici in questo modo qua ci permette anche di gestire bene le energie e le rotazioni in un finale di stagione in cui dicevamo da oggi al 22 maggio in 30 giorni giocheremo giochiamo sette partite senza questa sono sei è fondamentale poter gestire bene anche le energie molto molto bene simo che mi dici sono d'accordo sì 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 oggi oggi molto bene io temevo una partita molto più complicata come penso molti di noi non mi aspettavo un 3 a 1 che poi fino a quasi la fine è stato 3 a 0 quindi altra grande prova di forza credo di poter dire con una certa sicurezza che delle tre in lotta per lo scudetto l'Inter è ampiamente quella che sta meglio a livello psicofisico e questo chiaramente non basta perché poi devi anche vincere sul campo le partite però è un ottimo punto di partenza rispetto a un Napoli che ogni tanto scivola e a un Milan che parla e pensa a tanto altro che non sia il campo in questa fase e comunque in difficoltà quindi questo è una grande un gran bel segnale domani dovesse arrivare un aiuto da Roma dalla Roma bianco celeste sarebbe tanta roba detto che mercoledì ragazzi la finale è mercoledì se domani il Milan vince mercoledì hai la partita dove devi necessariamente fare il sorpasso e poi devi concludere in grande stile mi sembra di poter dire che nonostante la fase calda del campionato che per esempio l'anno scorso era coincisa con un Inter come dicevi anche adesso un po' con il braccino e che vinceva di misura 1 a 0 con i palloni che scottavano adesso magari arriverà ma adesso questa Inter sembra tornata con la serenità mentale di una volta vedo tante sovrapposizioni vedo gioco corale e sinceramente non me l'aspettavo cioè mi aspettavo magari un miglioramento ma non un ritorno a quell'Inter la vista la fase calda della stagione e quindi questa è un'altra ottima notizia assolutamente assolutamente d'accordo di notizie buone comunque la maggior parte delle notizie buone cioè la maggior parte delle notizie sono buone per questa partita una probabilmente delle migliori partite della stagione considerando il momento e l'avversario secondo me per quello che ha messo in campo l'Inter un Inter che tra l'altro dicevamo è tornata ad essere cinica perché anche questa volta abbiamo lasciato l'iniziativa a loro è un Inter che è stata molto intelligente nella gestione sapevamo che la loro difesa i loro difensori non hanno piedi educatissimi potevano sbagliare e quindi li abbiamo lasciati fare e poi invece alzavamo il pressing sui loro portatori di palla più qualitativi dai Oliveira i Pellegrini soprattutto è stata una partenza molto alta a livello di ritmi come ci potevamo aspettare quindi siamo partiti forte entrambe le squadre non si sono create clamorose occasioni la prima vera occasione forse il tiro di Ceranoglu dalla distanza grande partita di Ceranoglu tra l'altro nell'ombra ma non solo perché fornisce altri due assist quota sette gol e undici assist calciatore che lo ricordiamo arrivato a parametro zero si è ampiamente ripagato possiamo dire e ehm ma eh oltre a quell'occasione soprattutto però la grande occasione della partita la prima vera occasione è quella della Roma con Mancini che sfiora il vantaggio con un colpo di testa su un calcio d'angolo in cui siamo stati un po' ingenui abbiamo commesso qualche errore di troppo a livello di impostazione all'inizio un paio di palloni persi da Skriniar che poi però si è ripreso la grandissima due rilanci bruttini da parte di di Andanovic anche Broso ha perso all'interno di una prestazione monumentale eh un paio di palloni pesanti eh ma subito dopo l'occasione di Mancini siamo stati bravi ad aggredire ad andare in gol con un'azione che nasce da quella coppia di attaccanti Simo correggimi se sbaglio eh tutti quanti abbiamo dei dubbi sulla sintonia tra Lautaro e Dzeko e anche oggi secondo me questi dubbi si sono rivisti sul campo la cosa positiva però è che il loro lavoro che favorisce il gioco della squadra all'interno di uno schema sicuramente molto provato ha permesso di sbloccare la partita con un gran gol di Bro Brozovic che nasce proprio da un'azione di questo tipo gli attaccanti si muovono Dunfris può inserirsi glaciale davanti a lui Patricio lo fulmina poi solo per chiudere Brozovic raddoppia con un gol spaziale veramente all'interno dell'area di rigore che nasce ancora una volta da Di Marco in molti criticavano la scelta di Di Marco che invece è stato molto prezioso in questa partita ha fatto molto bene Lautaro Martinez il terzo gol è da centro avanti vero grazie anche un po' alle difesa alla difesa romanista che sui calci d'angolo me la sarei aspettata un po' più attenta invece eh bravissimo Lautaro a staccare e incornare l'incornata del toro per il tre a zero nel finale dicevamo chi è entrato dalla panchina non è entrato bene secondo me eh a parte Cagliardini che ha fatto due azioni iniziali ma poi è calato molto di rendimento e ha delle responsabilità nel gol subito e non solo e e ci siamo un po' contratti abbiamo avuto qualche difficoltà in più però veramente oggi tante tante buone notizie tantissime 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 per tornare al discorso agli attaccanti sì anche questo è stato una cosa di cui abbiamo parlato nel pre partita e in diversi avevamo qualche dubbio il gol che ha fatto Dumfries come dicevi tu nasce da un'azione comunque studiata quindi questo secondo me non smentisce il fatto che questa sia la coppia che non funziona benissimo perché comunque con i movimenti studiati e pensati eh alla fine la cosa ha funzionato anche perché sono due grandissimi giocatori quindi non è che sono dei brocchi all'improvviso continuo a pensare che l'inserimento di Lautaro e Dzeko probabilmente in un inter che funzionava male anche dal punto di vista fisico e mentale ha ingolfato completamente l'attacco in un inter che ha ricominciato a correre a funzionare bene a livello mentale non blocca per forza di cose eh diciamo tutto l'ingranaggio ma lo fa lo incastra un po' male diciamo così cosa che invece diventa molto più eh come dire oliata quando entra Correa che invece ti apre un po' eh un po' a diversi tipi di giocate quindi non escludo che con altre partite con Dzeko e Lautaro si faccia comunque bene si linka però se guardo se mi dimentico del risultato e guardo solo le azioni movimenti e la prestazione continuo a preferire Correa o Sanchez comunque un giocatore di questo tipo che mi dà proprio delle degli appoggi diversi delle situazioni diverse quindi vediamo vediamo come come si giocherà poi col Bologna e quelle successive concordo con te Simo vi faccio vedere al volo la classifica eh andiamo a recuperarla eccola qua una bella classifica devo dire eh con l'Inter che torna per almeno quasi ventiquattro ore in testa la classifica in attesa di vedere che cosa farà il Milan quindi Inter in vetta con settantadue punti il Milan in questo momento è secondo con settantuno punti quindi a parità di partite giocate l'Inter è davanti il Napoli è a quota sessantasette quindi la Juventus a sessantatré la Roma cinquantotto la Lazio dicevamo cinquantasei punti e l'avversaria del Milan in questo turno speriamo che abbiano la motivazione in più del fatto che vincendo si porterebbero un punto sopra la Roma eh e sappiamo è comunque importante anche in ottica Europa League ma non solo anche a livello di rivalità cittadina eh Simo ti sottolineo due dati eh siamo ufficialmente la miglior difesa anche dopo questo turno di campionato eh perché nessuno ovviamente siamo già oggi la miglior difesa quindi rimaniamo a ventisei eh le altre la più vicina il Napoli a ventisette e siamo di gran lunga il miglior attacco sessantacinque gol alla Lazio noi siamo a quota settantuno diciamo che questo primato ce lo stiamo ampiamente meritando adesso eh al di là di quello che farà il Milan domani perché per me al di là di quello magari il Milan potrà anche vincere visto che la Lazio ha anche tanti problemi quindi magari Milan sicuramente vince eh ma noi dobbiamo fare la corsa su noi su noi stessi ecco e dopo questa partita eh ne abbiamo ulteriormente la dimostrazione quella col Bologna è sicuramente una finalissima dimmi se sei d'accordo e poi ti lascio con un'ultimissima provocazione e chiudiamo sono d'accordo poi guarda il calcio per fortuna non è solo numeri io ho sempre detto questo sono importanti ma per fortuna non è solo numeri però nei numeri basta guardare la classifica è una squadra quella che merita sto scudetto eh c'è poco da fare anche per colpe sue chiaramente non l'ho ancora vinto però insomma eh e tra l'altro qui ti do una piccola provocazione che poi proseguiremo nei prossimi giorni anche nel post partita non è forse il caso di rivedere qualcosina a livello di mercato nell'ottica del fatto che l'attacco pur non funzionando bene rimane quello più prolifico in assoluto così una una buttata ditemelo anche nei commenti di questo noi parleremo prossimo l'ultima cosa volevo chiudere con l'arbitro Sozza perché è stata la grande il grande tema della vigilia eh non lo so ho visto tutti parlare di arbitri l'Inter si è concentrata sulla prestazione ha portato a casa il risultato forse conviene pensare più al campo che gli arbitri non so che ne pensi ma non diciamoglielo non diciamoglielo che va benissimo finché continuano a pensare agli arbitri va alla grande no a parte le battute Sozza ha arbitrato bene eh ha avuto una una partita molto difficile sia per le squadre in campo che per la la pressione che c'era su di lui completamente immotivata e lo ha dimostrato e rimane secondo me quello che anche i vertici arbitrali ritengono un potenziale fenomeno e anche oggi direi che comunque a livello mentale avete notato il fatto che questa era la sua ventesima partita in Serie A io no quindi tanta roba e e ovviamente in bocca al lupo per il futuro a Sozza assolutamente un grande abbraccio quindi a tutti quelli che ci hanno seguito sperando in un risultato negativo eh l'Inter vince grandissima vittoria assolutamente fateci sapere che cosa ne pensate anche voi scrivetemi nei commenti chi è stato il vostro migliore in campo vi ricordo di iscrivervi al canale e a parte in un altro contenuto arriveranno ovviamente le pagelle come al solito con i voti dei calciatori nerazzurri e vi ricordo ovviamente che se volete eh potete sostenerci ed entrare a far parte del nostro club su www.passioneinter.club www.passioneinter.club www.passioneinter.club